Il pesto genovese conquista la vetta della top 10 del gusto in base alle preferenze in tavola dei turisti stranieri in Italia. E il risultato dell'indagine è realizzata da una catena alberghiera italiana che ha stilato una classifica dei piatti più gettonati dai visitatori del bel paese. Con il 18% delle preferenze la salsa tipica genovese ha conquistato i palati soprattutto di francesi, tedeschi, spagnoli a pari merito con il bergamotto a grume usato in molti piatti tipici calabresi. Lo ha annunciato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino che si è detto orgoglioso che un prodotto tipico della Liguria abbia battuto piatti fortemente legati alla tradizione italiana quali le lasagne alla bolognese e gli spaghetti alla matriciana. Per Berrino questo deve dare lo sprone a puntare sempre più sull'eccellenza dell'inogastronomia ligure come attrattiva per i turisti creando percorsi ad occhio come già proposto del resto all'Espò con il supporto alla candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO proprio del pesto. L'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai ha evidenziato che il sostegno ai produttori e la valorizzazione delle coltivazioni, in questo caso di basilico, è un preciso impegno che la giunta regionale intende portare avanti.